Oggi viviamo nel ventunesimo secolo e io credo che a questo punto il mondo reale si sia ormai pressoché esaurito, anche banalizzato se vogliamo, perché è già stato fatto così tanto e una specie di entropia, di abbondanza delle cose di cui al mondo disponiamo ci porta alla domanda possiamo veramente fare qualcosa di originale e nuovo e come possiamo spingere oltre i limiti nella fisicità. Ognuno oggi si crea da solo il proprio MySpace, Facebook, il proprio blog eccetera così siamo diventati tutti fotografi, tutti scrittori, tutti critici. Questa era dell'immagine ha permesso davvero allo spirito umano di tornare alla sua vera essenza e la sua vera essenza è la sua creatività siamo nati per creare. Passo la mia vita sugli aerei con il mio portatile, lavorando proprio come se avessi veramente un telaio. Creò tessuti ma usando il computer come una protesi dell'immaginazione per inventare le texture e così mi ha contattato Scavolini, una società che tra l'altro reputo fantastica, qualcuno con cui veramente ho sempre sognato di lavorare, quindi sono rimasto piuttosto sorpreso quando hanno bussato la mia porta e la qualità del loro lavoro è fantastica. Mi hanno chiesto di collaborare alla loro collezione crystal, di decorarla, di aggiungere il mio spirito, la mia estetica. Quando ho visto i progetti ho pensato siamo giunti a un punto in cui la cucina è diventata davvero un oggetto molto molto raffinato. E Scavolini senza dubbio crea cucine moderne, con geometrie regolari, rigorose, pulite. E l'idea che fossi io a decorarle, a entrarci, era quella di aggiungere un po' del mio spirito pop, anzi post pop in un certo senso. Perché oggi all'interno di una casa la cucina in se stessa rappresenta un posto, il posto, dove hai bisogno di trasmettere diversi livelli di energia e ispirazione. Ora, in una cucina convivono due aspetti. Vita sociale, le feste, voglio dire che quando c'è una festa e la gente si ritrova insieme, si può osservare quanti invitati spesso vadano in cucina per il cibo, il vino e altre cose e poi ci trascorrano molto tempo. E l'altro aspetto è il cucinare, quando cucini hai bisogno di ispirazione. E quindi ritengo che non ci sia niente di meglio per ispirarsi che elevare l'energia, la bellezza, l'estetica, i colori, le superfici e le texture di una cucina. Perciò ho preso alcuni dei disegni, dei pattern con cui lavoro e li ho adattati alla collezione Crystal. E il risultato è notevole, perché il cristallo ritengo sia un materiale fantastico per una cucina. Ho ritoccato e decorato, lavorando anche sulle maniglie e sulle cappe, per portare un altro effetto, veramente alternativo, qualcosa di più colorato e con un po' più di energia, possiamo dire, nel contesto della cucina. Questo è ciò da cui credo di essere ispirato. Sono ispirato dal vivere.